È tempo di scendere in campo per i romagnoli del Beats Volley. Saltato il primo torneo dell'anno a Kish Island in Iran, Enrico Rossi e Marco Caminati sono partiti per il Brasile, in cui esordiranno all'Open di Maseyo. A seguire parteciperanno al grande slam di Rio de Janeiro e all'Open di Vittoria. Questi tornei sicuramente saranno molto difficili perché appunto qualificano per le Olimpiadi, danno punti importanti e quindi saranno presenti tutte le coppie più forti al mondo. Noi ci siamo e proveremo a fare il nostro meglio partendo sicuramente dalle qualifiche per riuscire a tenere un posto in tabellone principale. Qualora dovesse succedere faremo il nostro meglio poi per fare il miglior risultato possibile. Il 2015 per me e il mio compagno Marco Caminati è stato il nostro primo anno Serie Nazionale. Dopo aver condotto una buona preparazione anche se con degli alti e dei bassi a caso infortuni siamo riusciti a ottenere degli ottimi risultati. Il mio compagno ha attribuito l'aggettivo sorpresa a quest'annata e io confermo perché neanche noi ci aspettavamo di fare così bene. La nostra preparazione invernale è stata molto buona dal momento che è stata seguita in tutti i suoi aspetti sia a livello fisico sia a livello mentale sia a livello del nutrizionista e sia svolta principalmente in due luoghi a Roma e nel centro di preparazione olimpica di Formia. L'obiettivo ultimo di una coppia professionista è quella di comunque partecipare alle Olimpiadi. Noi siamo una coppia giovane, siamo una coppia che da pochissimo si trova in questo ambiente, fa parte della nazionale e sicuramente sarà il nostro obiettivo a lungo termine.